Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui finalmente, tornati con un nuovo pass partita per il Bayern di München entra Sar per Sané e poi è entrato anche Chupo Moting al posto di non so chi, batosta epocale 4-1, però questo 4-1 mi lascia uno spiraglio perché quel gol, io lo dico, non è possibile ma se lo fa, sappiamo tutti che andò di me pigliavate per Matteo, me pigliavate per Matteo ho detto se era Roma, e basta, è impossibile però si può fare allora, grandi errori difensivi da parte di Patrick, di Musacchio, si è anche fatta autogolla Cervi che uno è colonne per tanti, ma quelli meno giustificati sono Patrick e Musacchio 4-1 i minuti di recupero, attacca il Bayern ma senza convinzione, anzi sta più sul centrocampo e la difesa molto difficile, molto difficile per la Lazio che però, io secondo me questo risultato è abbastanza bugiardo perché ok che si meritavano sì di prendere 3 gol, ma il risultato secondo me è bugiardo perché poteva essere 5-3, secondo me era benissimo 5-3 non voglio esagerare, intanto qua attacca la Lazio, vai Lazio, 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 ancora il pallone però non riesce a prenderla, attacca ancora con Davis, Davis avanza però senza troppa convinzione avanza il Bayern di Monaco che torna indietro, ma concentriamoci sulla partita, il risultato è troppo bugiardo perché non hanno giocato così male quelli a Lazio, io l'unico consiglio che darei è di giocare con la difesa a 4 perché ti ricordo cara mia amata Lazio e caro Simone Inzaghi che stai giocando contro il Bayern Bayern Monaco che non vorrei dirti ma c'ha un certo Roberto Lewandowski, codesto uomo ha vinto la Scarpa d'Oro e quindi poi in difesa hanno giocatori fortissimi come Sule, Poateng, Alaba alla sua ultima stagione, Davis importano il miglior portiere al momento in circolazione, ovvero Manuel Neuer a centrocampo sono migliori, in attacco sono migliori, attacca ancora Lascia, Kimic ancora Kimic, attacca, fallo da parte del Barcellona, della Lazio su Kimic no era Sule, era Sule il sondaltonico, anzi non ci vedo proprio una mazza di cazzo Sule, fallo su di lui, oggi si è sacrificato giocando terzino ma ad esempio ragazzi la prova è Musacchio che esce dopo 30 minuti, cioè è scandaloso adesso va sulla punizione Alaba e Hoshua Kimic da indicazione ai suoi Pep Reina che ha fatto una partita strepitosa senza dilure, di lui ne avrebbero preso minimo 6, quelli della Lazio perché Reina oggi è stato decisivo, infarto in live, questo è il titolo almeno faccio un minimo review calcio di punizione, va tutto bene da Alaba, ormai non c'è più niente da fare siamo entrati nell'ultimo minuto di recupero la Lazio ha giocato bene, sì, però veramente come ve l'ho detto il risultato è molto bugiardo Marusic sbaglia un po' stesso, easy, easy oserei dire regala una rimessa laterale ai propri avversari tutto questo non va non va assolutamente, la Lazio deve agire al ritorno e cercare almeno di fare due, di vincere ma proprio già per l'orgoglio di dire abbiamo battuto la squadra campione in carica campione del mondo in carica anzi, campione del mondo quindi già solo quello, fidatevi che sarebbe molta motivazione l'ultimo secondi, quattro secondi, due secondi e finisce qua un saluto da me e bella partita finita male